Piove, tempo davvero da lupi, condizioni tutt'altro che ideali per la partita. Vedremo come l'affronteranno le due squadre. Un saluto da Pierucci Pardo e Stefano Nava con cui commenterò il match di oggi. Andata nei quarti, protagonista di questa sfida, vedremo se una delle due squadre riuscirà a chiudere con un risultato difficile da ribaltare. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. Ospiti che si presentano come grandi favoriti a questa doppia sfida. Vedremo se il verdetto del campo confermerà il pronostico della vigilia. Di sicuro tutta la pressione su di loro. E spesso questo non aiuta. L'ha colpita davvero male, palla in faro laterale. Palla che finisce ancora una volta in faro laterale. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pier. E così deve averla preparata. Questa è la scelta del tecnico degli ostini per il match di oggi. È un classico 3-5-2 per loro senza grandi rivoluzioni. Schierano un centrocampo particolarmente folto, almeno sulla cata. Anche se in realtà i due esterni sono più difensori di spinta. Adattati a giocare in mediano. Che centrocampisti puri. Vediamo se crossa. Occhio, intervento brutto. Vediamo cosa decide l'arbitro. Il cartellino giallo è passato pochissimo dal calcio d'avvio. Sì. Sono partiti in modo molto aggressivo per l'origine. La spazza via. Javi Martinez. Occhio all'avanzata. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Palla ancora lì. La spazza via con l'intervento davvero tempestivo. Potevano mettere la freccia e sbloccare il match. Ma non hanno fatto i conti con il portiere. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Trova la botta. Attenzione. Rete. Tutto fermo. Gol annullato. Cioè, posizione di fuori gioco secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale. È sembrato anche a me che fosse in fuori gioco Pierluigi. È in buona posizione. Balla messa dentro. E la mette fuori. Che gol sbagliato. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contrapiede. Attenzione perché è pericoloso. Tanaka! Strepitoso intervento nel difensore. Davvero Pierluigi. L'avevo già vista dentro. Salvataggio sulla linea che vale come un gol. E stavano già per risultare. Providenziale. Tanaka. Pallone troppo prevenibile questo. Può metterla in aria. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Il difensore blocca bene il cross. Lettura perfetta e palla recuperata. Tanaka. Giornata di pioggia. Le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sei pieri infatti dovranno fare molta attenzione soprattutto nel gioco palla a terra. Che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Cross respinto. Non è riuscito a sfruttare questa occasione. Poteva essere una buona opportunità. Il Liverpool ha dunque ufficializzato il suo nuovo acquisto mettendo fine a una serie di voci che si erano rincorse nelle ultime settimane. Un buon acquisto cercato, voluto, trovato per rinforzare la Rosa in un settore che evidentemente andava puntellato. Ottimo intervento difensivo. Posizione ideale. La traiettoria verso il centro. Azione pericolosa. Sventata. Guarda il movimento in area. Cross sul palo più lontano. La spazza via. C'è il pressing. Palla che esce. Sarà parolaterale. Regalano palla agli avversari. Occhio all'avanzata. Può colpire da lì. Di testa. Pallone sul fondo. Buona occasione. Mancato il bersaglio. Pallone perso. L'extra time sarà di due minuti. Tanaka. Riconquista il pallone. Palla spazzata via. Azione che sfuma. Parità dunque al termine della prima parte di gara. Tutto pronto. Si parte con il secondo tempo. Gomez. Tanaka. Attenzione al tiro. Respinge il primo tiro. Decisivo l'intervento qui. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Provo da distanza siderale. Il portiere in presa sicura. Javi Martinez. È in buona posizione. Possono passare in vantaggio. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura. L'attaccante era già pronto a esultare. Pallone che ha superato la linea laterale. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Javi Martinez. Ottima visione di gioco. Javi Martinez. Tanti giocatori dietro la linea del pallone. Portiere che svetta la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier. Non può concedersi distrazioni o sono guai. Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Ha visto partire la palla ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Ci sarà dunque una sostituzione? C'è il corner di Buonaventura. Portiere che interviene senza problemi. Gomez. Tanaka. Può essere il gol del vantaggio. Non bene qui il difensore. Attenzione. Respinge il difensore. Si riprenderà con un fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Pallone invitante. Guadagna metri. Grande recupero in area. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. ci sono metri a disposizione. Può metterla da lì. Può metterla da lì. Palo e non è finita. Attenzione. Palla interessante nello spazio. Palla interessante nello spazio. Il corner ci mette i pugni e allontana. ci riprova. Palla rispinta dal difensore. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. perdono palla banalmente. Si ripartirà con una rimessa laterale. Salta l'uomo. Attenzione. Difesa in difficoltà. Potrebbe crozzare. Può avvicinarsi alla porta. Alex Teixeira. C'è Bonaventura. Attenzione perché è pericoloso. Attenta qui la difesa. Un'occasione sprecata per sbloccarla nel finale. Poteva essere il gol partita visto l'andamento del match. e i minuti che mancano ancora da giocare. Ancora tre minuti da giocare. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Devono sfruttare questa occasione. Se vogliono trovare il gol partita. Mi ruba benissimo il pallone. Si giocherà ancora per due minuti. A spazio davanti a sé. Vediamo cosa fa ora. Partita che finisce qui. Pareggio a reti bianche. Zero a zero.